Grande fratello. Alfonso Signorini in lacrime. La terribile notizia per Beatrice Luzzi. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Il grande fratello ha rivelato il favorito e il meno votato nel nuovo televoto durante la puntata di ieri. Sebbene nessun concorrente sia stato eliminato, le preferenze del pubblico hanno indicato chi è il più amato e chi rischia l'eliminazione. Nel frattempo, le polemiche sul presunto, branco, contro Beatrice continuano a infiammare gli animi. Nonostante i richiami di Alfonso Signorini, diversi concorrenti del gruppo hanno nuovamente attaccato Beatrice Luzzi durante la notte, criticandola aspramente. Tuttavia, il pubblico ha espresso il suo parere attraverso il televoto. Beatrice è stata votata come la preferita con il 47% dei voti, seguita da Marco con il 43%, mentre Stefano ha ricevuto solo il 10% delle preferenze, mettendolo così a rischio di eliminazione nella prossima puntata. La terribile notizia per Beatrice è stata amara. Considerando che Stefano è uno dei pochi concorrenti a sostenerla, insieme a Sergio, soprattutto dopo l'uscita di Fiordaliso. Beatrice sperava che il meno preferito fosse Marco Maddaloni, ma non è stato così. Durante la puntata sono state fatte altre nomination e, alla fine sono scaturiti i nomi di Beatrice, Sergio, e Gressia, che ora si trovano al televoto, con uno di loro destinato ad essere affiancato a Stefano per l'eliminazione definitiva. Vedremo se il pubblico darà ragione a Beatrice scegliendo Gressia, oppure sceglierà Sergio. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.